RxC, grazie mille. Allora, io voglio tagliarmi i capelli in live, voglio tagliarmi i capelli in live perché sono un po' esagerati questi capelli, solamente che non funziona la macchinetta, non funziona la macchinetta e non mi sembra il caso che ho avuto lato, per cui non so come fare, con le forbici non me li voglio tagliare perché preferisco rasarmeli tipo Moicano e lasciarmeli lunghi, qua perché a me quello che mi dà fastidio sono i lati in realtà, però non funziona, a me hanno detto che non funziona, io posso anche provare ad accenderla. RxC Non so, credo funzioni, credo funzioni, è rotto? Non lo so, non so, non ho mai utilizzato un rasoio così. Cioè, in generale, cos'è, quanti millimetri? Numero 3, quanti millimetri sono numero 3? Non lo so.